La scusa era di cambiare una banconota da 50 euro, ma ha sottratto con destrezza 20 euro al dipendente di un ristorante in Viale della Pace. Il giovane, un 27enne originario di Napoli, è stato inseguito dal cameriere che però è stato aggredito con calci, pugni e morsi. Ad assistere all'aggressione un amico della vittima che ha seguito i due fino a chiamare subito dopo il 113. In pochi minuti la volante è riuscita a intercettare il rapinatore e a bloccarlo. Per lui, già conosciuto dagli agenti della questura, è scattato l'arresto mentre la vittima dell'aggressione è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari. Per le lesioni e le ferite riportate durante la coautazione ha avuto 21 giorni di prognosi. Al termine della convalida dell'operato della polizia, il giovane 27enne è stato ristretto agli arresti domiciliari, come disposto dal Tribunale di Vicenza.